Lo vivo come una partita normale, sappiamo che siamo ritornati in Champions, quindi siamo contenti di questo, siamo orgogliosi di giocare contro i detentori della Coppa dei Campioni, quindi è anche un banco di prova importante per noi, sappiamo che dobbiamo migliorare e lavorare, però è un banco veramente importante perché ci confrontiamo con una grande squadra. No, abbiamo già visto il filmato, abbiamo visto gli errori che abbiamo fatto, quindi già ieri abbiamo lavorato su queste cose e quindi abbiamo cercato di far capire delle cose che non sono da ripetere domani perché domani giochiamo contro il Chelsea.